buonasera a tutti ovviamente buon anno a tutti gli appassionati di podismo e atletica questa serata la impegneremo esclusivamente in una carrellata di tutto quello che è avvenuto nel 2018 almeno in parte insomma per quanto riguarda il polismo in atletica quindi fabio sinatti e moreno sinatti e qui partiamo subito proprio dalla befana campestre che poi riprenderà le ostilità diciamo nel cross proprio domenica prossima a policiano proprio in occasione della befana 2019 ecco moreno è stato un anno direi particolarmente intenso da un punto di vista proprio della del podismo dell'atletica e di quant'altro perché arezzo è stato un po il centro di molte iniziative ad altissimo anche livello si fra strada e pista abbiamo ci sono state delle grosse manifestazioni della strada scalata al castello è più importante la mezza maratona e poi in pista i campionati italiani master e più in due volte anche i campionati italiani staffette prove multiple quindi atletica quest'anno da adesso è stata vissuta intensamente ecco fra le altre cose abbiamo visto anche proprio un incremento diciamo numerico di partecipanti di appassionati ma soprattutto anche di sostenitori di questo di questo sport che sembrava un pochino quasi affevolire ma negli ultimi anni ha preso piede soprattutto proprio con lo spirito anche di stare meglio quindi al di là diciamo degli atleti particolarmente agonisti ma anche proprio la maggior parte delle persone che pratica questa attività della corsa della della camminata proprio per per stare meglio sicuramente la massa aumentata la qualità è rimasta un pochino lì è escluso qualche eccellenza che che viene fuori però c'è la massa la massa finalmente le persone prediligono camminare correre e molte volte approfittano di qualche manifestazione per entrare dentro a questa manifestazione e correre in compagnia ecco fra l'altro qui vediamo anche i giovani che si stanno affacciando un pochino all'ambiente diciamo dell'atletica prima proprio divertendosi poi man mano che crescono anche questi però diminuiscono di quantità quindi comunque qui ce n'erano abbastanza onore riguardando queste immagini speriamo che domenica prossima sia così bello il tempo perché effettivamente guarda vedendo queste immagini per corso l'anno scorso era fenomenale esatto poi tanti bambini provenienti diciamo da tutta la provincia ma non soltanto proveniente anche da fuori che intanto vediamo proprio invece il settore femminile questa valida per il circuito dei proprio del gran prix toscano anche quest'anno ci sarà il gran prix toscano e in più dentro questo ci sarà il campionato toscano di cross e corto che è stato ripristinato dopo alcuni anni di assenza quindi sicuramente avrà un suo valore anche questo la gara sarà cortissima perché tre chilometri però saranno tre chilometri intensi ecco vedendo sarà una gara direi molto molto sostenuta si l'arrivo a fatto finish e le cross corto è bello per quello perché anche tra il primo e l'ultimo ci saranno ristacchi molto molto limitati insomma nello spazio di quasi neanche un minuto arriveranno più o meno tutti arriveranno poco più insomma ecco quindi diciamo in tre in tre chilometri si vedranno pochissimi diciamo atleti staccati di tanto insomma ecco ma c'è da dire che ecco non ci sarà solo il cross del gran primo ci saranno anche il cross per amatori ci saranno tre partenze prima la prima le due in quarto per gli amatori e poi dopo poi saranno i bambini e poi ragazzi cadenti del settore federale e poi dopo cross femminile donne tre chilometri tutto tre chilometri la distanza più lunga sarà tre chilometri però sicuramente sarà uno spettacolo perché parteciperanno atleti provenienti da tutta la toscana e non soltanto ecco qui siamo passati invece a un altro evento sempre del cross questa volta invece proprio ecco come dicevete a gubbio in occasione dei campionati italiani in cui sta affetto questo in cui la polisportiva polisportiva è riuscita a vincere un titolo con questi personaggi con due squadre primi e terzi siamo arrivati sì ecco qui vediamo un caldelli che ha contribuito molto a quest'anno ha fatto un'annata direi strepitosa dal cross poi è arrivato fino alla maratona da 1500 diciamo è andato fino a 45 a 42 chilometri quindi fatto tutto insomma e sicuramente il cross come ormai la vecchia guardia conosce è un diciamo è un'attività che serve per poi essere pronti nel periodo primavera estate per la pista e non soltanto anche per la strada ecco qui vediamo proprio le fasi interlocutori di questo di questo cross è sempre riferito la prima frazione abbiamo visto cardelli che poi dopo c'era questa questa straffetta c'era fatichenti niola e vannuccini che sono risultati i campioni italiani insomma hanno vinto il titolo questa gara quest'anno purtroppo sarà molto più lontano sarà a torino quindi vedremo se ci saranno le condizioni per poter andare su la squadra ci sarebbero nelle varie categorie però costeremo a vedere perché a gubbio era molto facile andare a torino è molto più impegnativo la trasferta un pochino più lontano ecco che vediamo ancora proprio delle fasi interlocutori che vediamo per rezzetti rezzetti la master m50 della categoria che sono arrivati secondi terzi composta da basile rezzetti soldini e sinatti stefano e comunque anche lì l'hanno mancata per non fare i fatti colti male e facendo i conti in un altro modo potersi riuscivano a vincere anche questa gara che perché questa era in base alla somma dell'età questo invece è fatighenti che era il secondo frazionista di questa e chi vediamo ancora a rezzetti chiaramente in un percorso direi stupendo moreno ovviamente il cross è uno dei migliori cross che abbiamo visto chi è con il rio che ha fatto una frazione che ha fatto ovviamente una gara diciamo strepitosa particolarmente diciamo brillante la sua prova anche perché è un atleta molto muscolare quindi nelle ne cross sicuramente si trova a suo agio e qui siamo passati invece alla strasimeno quindi un'altra delle manifestazioni anche questa purtroppo magna come tutti quasi tutti gli anni e bagnata condizionata dal tempo però ecco direi una partecipazione molto nutrita di concorrenti provenienti da tutte le parti oltre che d'italia ma anche da alcune nazioni europee questa c'è da dire che è stata riconfermata per il 17 di marzo questa gara ci sarà ecco fra l'altro il gran primo reno che quest'anno ha visto nel 2018 ha visto ben 38 gare nel 2019 saranno ridotte probabilmente intorno a una trentina di di gare quindi sicuramente diciamo un pochino meno impegnativo anche da un punto di vista diciamo della partecipazione perché diciamo che il 2018 è stato sì hanno forse troppo intenso anche perché si è aggiunta qualche gara strada facendo speriamo quest'anno non sia non si aggiungano strada facendo perché se uno decide di fare quelle gare le gare sono quelle può senza uno si deve prenotare l'anno prossimo se uno vuoi mettere gare nel gran primo ecco fra l'altro siamo già nel 2019 e già due prove sono state già effettuate la corsa di natale di terra nova bracciolini che faremo vedere insieme al capodanno di corso e la befana campestre la settimana prossima quindi saranno diciamo la puntata della prossima settimana ecco sono già due gare importante che sono già ben disputate e ha visto una buona partecipazione di atleti e anche anche da un punto di vista tecnico quindi direi che si stanno muovendo anche alcuni giovani quindi ci auguriamo che questa presenza dei giovani possa indurre ad stimolare diciamo un pochino anche una certa una certa presenza nelle nel settore ecco che fra i giovani chi lo vediamo proprio uno dietro in quarta posizione vediamo lorenzo mori che è un atleta giovanissimo ma che già fa parlare di sé e qui invece la vecchia guardia con cardelli cardelli poi vediamo malgine si e poi avevamo presto prima il trio si con in bar si sembra che niola e poi graziani graziani sono qui ecco direi che graziani è stato l'anno beh top anche per si ha tornato la prima la prima parte della stagione era abbastanza un po messo male per via di una specie di allergia che non l'ha permesso di correre ma una volta che è ritornato superato la fase la fase critica qui non pioveva invece correre sotto queste condizioni c'è chi fa dieci chilometri va bene ma chi ne fa cinquanta tutto il giro dell'anno cini che fra l'altro ha mantenuto la testa del grand prix fino a un certo periodo tallonato da alessandro annetti che proprio c'è stata una lotta proprio spalla a spalla fra questi due atleti fino all'ultima prova quella delle tre le memoria annetti tra il lignano che veramente ha poi sancito la vittoria di alessandro annetti comunque sia vannuccini quest'anno anche lui ha fatto una grande una grande gara una grande stagione sì e beh diciamo che il 2019 potrebbe essere un altro anno importante qui siamo invece alla corsa alla camminata della valdichiana anche questa è una gara che negli anni fermata l'ultima domenica 24 24 24 marzo 24 marzo si sarà anche qui la camminata della valdichiana che come vedete in questa circostanza è stata particolarmente diciamo partecipata anche perché è una gara molto premiata quindi molte persone l'iscrizione sono contenute quindi non non lo fanno sotto l'aspetto speculativo ma proprio per invogliare poi hanno trovato anche in questa occasione qui una giornata positiva è importante che dopo quando andiamo su queste salite questo è un percorso abbastanza impegnativo e questa è la prima asperità nel primo giro nel secondo giro che non ci ripassiamo di chi però passiamo da un'altra salita molto 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 più impegnativa dove gli atleti prediligono anche questi sono molto vari quindi sono monotoni questi sono percorso e possiamo anche dire che le grand prix effettivamente si spazia tra gare di cross gare di diciamo sostenute diciamo brevi e gare lunghe quindi veramente c'è la possibilità di sbizzarrirsi e non è mai acquisito non è mai scontato che il risultato fatto ai primi nelle prime competizioni poi si possa confermare fino all'ultime gare la competizione lunga non la gara sera sono tante gare quindi ci sono dei momenti di alto di basso quindi e quindi chi riesce a essere più omogeneo e abbiamo visto che quest'anno chi è giunto alla fine delle del grand prix veramente ha avuto un'annata diciamo costante nel mantenersi a certi livelli perché bisogna poi cercare di dosare bene le forze non esagerare anche nell'esprimersi in maniera diciamo forzata in certi momenti rispetto ad altri ad altri momenti più più tranquilli insomma ecco quindi cercare sempre di controllarsi e controllare le varie competizioni perché siamo nella parte arte di san zeno nella prima asperità che stiamo discendendo e ora vediamo e ora siamo passati a un'altra competizione questa è la parco corsa che anche questa sta crescendo anno dopo anno addirittura quest'anno potrebbe essere abbinato alla parco corsa che sarà il 22 di aprile di aprile quindi lunedì di pasquetta oramai è il giorno dedicato alla parco corsa quindi ormai non si non si cambia c'è il giorno può cambiare ma il nome della pasca il giorno della pasquetta quindi percorso è bellissimo questo abbiamo fatto una piccola variante in modo da poter poter girare quasi tutto il parco l'anno prossimo se avremo occasione anche perché è stato già ristrutturato ancora meglio rispetto a questa edizione qui possiamo fare ancora qualche metro in più dentro il parco che sarebbe cioè poi veniamo la gente ce n'era tantissima proprio qui era dopo 200 metri della partenza quindi ancora sono tutti in gruppo e fra l'altro questa manifestazione potrebbe essere inserita in un contesto nazionale del per diciamo evidenziare il morbo di parkinson quindi ci stiamo organizzando perché questa iniziativa di tipo sportivo possa essere anche poi di tipo sociale quindi venire incontro anche ad alcune particolarità e soprattutto sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche del morbo di parkinson che diciamo assilla un po anche la popolazione italiana ecco quindi diciamo lo sport è abbinato anche a questo è qui chiaramente la bellezza del parco del pionta giornata che apprezzata da tutti quindi forse è una delle manifestazioni che non si stancano mai vorrebbero essere fatte più spesso queste queste gare nei parchi anche se poi da un punto di vista organizzativo a volte ci crea qualche qualche problema però sicuramente piacevole perché qui alterni un parco dietro l'altro insomma quindi con qualche piccolo tratto di spazi di strada diciamo principali ma il resto è tutto fuori dell'ambito proprio si toccano tutti i parchi di arezzo quindi le auto e questo comunque è il miglior parco che c'è a rezzo per poter fare una gara e poi veramente dalla possibilità di spaziare proprio con le caratteristiche del territorio anche tutti i parchi perché passiamo dal parco del pionta al parco ducci poi andiamo su alla prato addirittura poi scendiamo e andiamo verso la misa severi poi torniamo nel parco giotto trovi veramente una varietà di ma anche di percorso che stimola la partecipazione di molte e molte persone riguardando queste immagini c'è una delle gare più partecipate anche della nostra del nostra provincia insomma quindi e soprattutto quello che si nota è proprio la la piacevolezza cioè il piacere di correre questa questa competizione ecco questi sono gli unici tratti che siamo stati costretti a utilizzare per andare in un altro parco però andiamo verso il prato adesso quindi però direi che anche ecco la diciamo lunedì pasquetta permettono anche una buona c'è da dire che andavamo con gli uvati dai vigili dei vigili urbani che hanno esatto quindi che ci hanno permesso diciamo di poter svolgere il prato del prato anche qui altra zona particolarmente suggestiva bellissima quindi direi che i parchi di arezzo se li potessimo veramente utilizzare tutti sarebbero stupendi no anche questo ci sarebbe potremmo fare qualche metro in più però è sempre alle storie dopo ci sono le le curve le contro è facile che qualcuno invece di andare in curva vada diritto e tagli il percorso quindi ecco chi invece a empoli esatto qui siamo al campionato di corsa campestre in cui diciamo la società retina la polisportiera di policiano è riuscita ad acquisire il biglietto per l'ammissione alla finale nazionale quindi anche qui chiaramente questo è un bel parco un altro bel parco ecco poi una giornata una giornata bella molto grande riesci qui a fare due chilometri senza accorgertene quasi proprio immenso come parco e anche qui ovviamente la giornata stupenda che vediamo il calile yassine che stava rientrando anche lui dobbiamo dire di el calile che ha fatto l'esperienza della bocclassica e forse nel non nel miglior modo possibile però si rifarà probabilmente domenica prossima sarà uno dei protagonisti alla befana campestre quindi vedremo un po quello che succederà insieme anche all'altro atleta murad ai belle che proprio in occasione della del capodanno di corsa ha fatto un rientro dopo due anni diciamo di inattività spettacolare perché poi nessuno si immaginava che potessero entrare nei primi 5 6 insomma voglio dire quindi stato veramente un bel un bel risultato e questo c'è da dire che domenica prossima ecco sarà come dicevamo prima sarà una gara appassionato perché tre chilometri e sono molti atleti sono della stessa caratura quindi fino all'ultimo i distacchi saranno le volate ci saranno le volate quindi vedremo un po quello che succederà il percorso di policiano non è così semplice semplice però sicuramente può indurre anche ad avere un arrivo in volata anche se nell'ultimo tratto gli ultimi 50 60 metri c'è una salitella che probabilmente spezzerà un po il ritmo anche degli atleti non c'è da dire che la competizione non è molto c'è il ritmo cambia continuamente non il ritmo costante quindi chi chi è più preparato potrà si avrà la meglio e quindi vede vedremo vedremo perché ovviamente usciranno fuori un po tutti i soggetti che sono rimasti un po nell'ombra nella corsa del capodanno e della corsa di natale quindi vedremo un po che uscirà fuori in quella circostanza uno di questi sono tre chilometri gli altri sono sopra 10 e 13 erano quindi quindi vedremo un po quello che succederà e qui siamo passati alla corsa di montepulciano che quest'anno non verrà effettuata quindi sarà una gara che però ha visto in due anni un progressivo aumento di partecipazione quindi tanti atleti che sono stati presenti in questa in questa competizione e sicuramente grazie a massimiliano nofroni che è stato un po l'ideatore di questa manifestazione riuscita a combinare il giro del verde che era una gara non competitiva con una gara competitiva dopo anni di diciamo di richieste nei confronti di inserimento sul circuito del grand prix diciamo due anni fa ci fu questa possibilità di inserimento da quest'anno c'è un anno diciamo di riflessione può darsi che nel 2000 nel 2020 possa riprendere la propria attività regolarmente e questo che anche questo è un percorso direi tutto nella campagna ori al traffico è personalmente per me abbastanza monotono insomma è molto cioè è bello perché non c'è inquinamento ma qui corri corri per te basta non corri per nessun altro e qui siamo passati invece a un'altra delle manifestazioni forse beh direi particolarmente spettacolari queste siamo nel centro di arezzo questa qui dove la partecipazione della della gente abbastanza massiccia questa qui eccola e la carla vivi città quindi una delle manifestazioni che si quest'anno è stato cambiato anche il percorso anche questo è un bel percorso perché anche vi utilizzavamo la parte del parte vecchia prima invece adesso che siamo andati quasi in periferia però ecco io abitando ad arezzo sono passato da questi che non c'erano mai passato quindi per me è stata una novità è sicuramente sì la parte bassa della città che solitamente non veniva mai utilizzata in questa occasione è stata presa in esame crisi ecco siamo nella zona di pescaiola e poi addirittura andremo a costeggiare anche l'aeroporto all'aeroporto sì e poi ritorneremo verso la zona del di via vittorio vento con dove zona saione dove è stata effettuata quest'anno la partenza e l'arrivo quindi e che sicuramente verrà ripetuta anche questa anche nell'anno 2019 il 29 il 31 di marzo quindi sarà l'ultima domenica di marzo che verrà effettuata nel vivi città nella città di arezzo ma soprattutto anche questa verrà ripetuta la zona di saione e qui abbia qui ha vinto marinelli giuseppe questa invece siamo invece passati alla fine di maggio dove i quest'anno la scala dal castello oltre alla gara internazionale maschile femminile era inserito anche il campionato toscano di corsa su strada a 10 chilometri quindi addirittura abbiamo dovuto fare due partenze due partenze con categorie separate partenza anche alle 15 e 30 quindi molto presto e ovviamente diciamo specialmente nella prima partenza sono era molto caldo era verso i diversi ritirati perché effettivamente c'è di solito la fine maggio è e sono le prime gare che c'è caldo caldo partendo le tre e mezzo è stato caldissimo insomma la gente non è abituata a correre a quelle temperature lì ea quell'ora lì e solo che 10 chilometri poi omologati quindi 10 chilometri esatti dovevano essere quindi avere il tempo necessario per poter fare queste due partenze per tornare poi per non fare un'unica gara anche perché facendo tutti insieme venivano doppiati si cedeva un po' di confusione anche se c'era il cipe però veniva sempre un po' di confusione mentre questa è l'altra partenza questa è l'altra partenza quindi vedete proprio due partenze particolarmente numerose spettacolari direi così e quest'anno la scala dal castello l'ultima domenica di maggio che però stiamo pensando di poter eventualmente spostare alla sabato sera quindi ancora non è definitiva la cosa è fatta tutta sia amatoriale che bambini esatto quindi a questo punto lì alle dalle 20 in poi sarebbe tutto uno spettacolo in diciamo in semi notturna e notturna con la gara in circuito vedremo un po' se ci sono queste condizioni anche perché andremo a coincidere con le elezioni europee e quindi ci potrebbe essere qualche qualche difficoltà ecco perché stiamo dicendo che ci potrebbe essere riporti di anticiparla alla sabato sera per permettere un regolare svolgimento della competizione anche in questo caso qui vediamo chi marianelli insieme a midar che poi arriveranno in una volata direi imprevedibile imprevedibile imprevisto una cosa veramente impressionante mentre ci siamo passate la gara in circuito ecco vediamo la battocletti che è recentemente ha vinto il titolo europeo quella con il petrolio numero 3 azzurra lei che giovanissima che ha vinto il capitato europeo di corsa under 20 lei è una figlia d'arte quindi è una che è capace anche a correre però ancora abbastanza giovane soffre la gara molte volte se non si sente in condizione e comunque sia anche questa è stata come al solito una gara particolarmente quotata da un punto di vista tecnico la presenza degli atleti e atlete del kenya e non solo hanno ovviamente dato vitalità alla competizione le azzurre coprimare in questo caso quindi sono state vediamo che sono rimaste un pochino un pochino attardate anche perché qui ritmi comincia ad essere abbastanza intensi e vedete proprio il passaggio dalla dalla zona del traguardo queste ragazze e qui avevamo invece la ciliegina che è mancata proprio sulla parte conclusiva della gara della torta vedete proprio l'ultimo in questo ordine di inquadrature c'era Ezekiel Kenboy il pluricampione del mondo campione olimpico che proprio nel finale si è fatto battere considerando anche la fascia d'età che e quindi la gara qui è stata veramente tirata tantissimo ecco vedete ancora dietro qui Ezekiel Kenboy che veramente ha un passo però fantastico quindi da un punto di vista tecnico non c'è da dire assolutamente nulla. Si hanno fatto una gara su di lui quindi hanno cercato di fare tutti essere tutti contro di lui perché era il favorito e ci sono riusciti quasi tutti escluso uno. Eh sì e qui vediamo ancora la lotta diciamo nella testa della corsa con Stefano La Rosa che sicuramente sempre è stato un grande battagliero presente ormai nelle nostre competizioni è diventato un po' il beniamino di Arezzo anche lui mentre ecco Ezekiel Kenboy addirittura il giorno prima era presente a fare le premiazioni per i campionati toscani di corsa di atletica leggera quindi campionati società di corsa di atletica leggera al campo di atletica che quest'anno ha vissuto veramente un'annata importante e qui la staffetta? Qui siamo alla staffetta di San Giovanni Valdarno anche questa è un'altra. Quest'anno è stata abbastanza molto partecipata rispetto a qualche anno che soffre quest'anno è venuta bene. È spettacolare poi vediamo anche la gente che assiste sempre molto entusiasta poi veramente palcoscenico è carino perché li vedi ogni 500 metri li vedi transitare quindi dall'una o dall'altra parte della piazza pertanto diventa anche facile seguire la competizione stimolarle eccetera ecco qui vediamo la Francesca Volpi che è stata per un certo periodo in testa anche al circuito del Grand Prix quindi anche nel settore femminile si sono dati da fare quindi vediamo ecco Nicoletta Sanarelli che è stata forse la più costante nel fare le gare e addirittura qualcuna l'ha vinta come anche Francesca Volpi cioè lui ne ha vinto più la Volpi mi sembra Francesca Volpi rispetto alla Sanarelli però la Sanarelli è stata più costante e qui vediamo ecco Graziano Emanuele che stava ritornando proprio da quel periodo un pochino cupo che aveva caratterizzato la prima parte della stagione quindi sta riprendendo e qui era a coppia con Tartaglini quindi qui hanno fatto diciamo gara a sé ecco per quanto riguarda questa staffetta che sicuramente è sempre molto spettacolare ancora non sappiamo la data esatta metà giugno dovrebbe essere anche questa e qui siamo passati invece a Monticello quindi anche questa è un'altra delle gare oramai consolidate nel circuito del Grand Prix è sempre nella prima quindicina di giugno quest'anno vedremo quando si riproporrà vediamo un po' ecco però anche questa qui è una gara direi tutto all'insegna della natura insomma parti e vai in mezzo al bosco e corri tutto dentro il bosco la valle dell'inferno la pandella però direi ci sono alcuni scorci alcuni scorci sono veramente spettacolari quindi direi che grande ecco che vediamo proprio in questo tratto dove Tartaglini ha fatto una gara importante poi Vannuccini poi Cristian Taras questi si sono andati da fare e sono tirati il collo ecco insieme a Giacomo Ragazzini che è uno specialista un po' di queste gare così e qui vediamo nella salita della Volpe dove Cristian Taras l'abbiamo immortalato che cammina sicuramente molto impegnativo poi anche Cade non è facile correre qui qui è proprio alla fine poi quindi eh sì qui vediamo ragazzini insieme a Vannuccini che invece ecco ragazzini abituato proprio nel Casentino quindi forse questi percorsi lì li segue maggiormente qui vediamo che stiamo accompagnando proprio anche Cristian Taras nella zona del traguardo e poi qui siamo passati invece a Capolona ecco la marcia lunga di Capolona che quest'anno sarà il 14 di giugno una gara anche questa che sta limando quindi sta trovando il suo assetto migliore e qui ha vinto un po' l'atleta di casa Filippo Chiolini che ha gareggiato pochissimo nel 2018 che però è riuscito a trovare la giornata per gareggiare bene e qui siamo passati invece a Ruscello pensate un po' dopo tre giornate intense due giornate no tre giornate tre giornate campionati italiani di atletica leggera master alle due del pomeriggio abbiamo terminato l'organizzazione dei campionati alle cinque del pomeriggio eravamo impegnati qui a organizzare la il trofeo Sestini di Ruscello 43esima edizione quindi la seconda più antica della provincia di Arezzo dopo la scalata al castello e la camminata di Donatore sono insieme con Ruscello quindi questa gara che oramai si è consolidata nel percorso impegnativo durissimo direi giornate sempre particolarmente calde e quindi ha visto Nucera insieme a Tartaglini poi qui ha visto Midara come al solito l'atleta marocchino che si presenta costantemente in questa competizione anche all'ultimo momento e qui sta la salita che spezza le gambe non cambi mai sempre fino in fondo è tutta così proprio un rettilineo che viene anche stanca di più e direi una gara questa qui proprio tosta li vediamo proprio anche gli atleti è il primo passaggio che dopo ce la fa l'altra volta dopo altri 8 km di gara a quel punto lì si è un pochino assestata anche la linea diciamo un po' le varie posizioni dopo aver fatto anche la parte più alta del tracciato e qui siamo passati invece alla notturna di Levane ecco questa l'ecomandar di notte l'ecomandar di notte altra gara direi partecipata perché anche qui tanti partecipanti questa era di lunedì martedì sempre lunedì quest'anno avvierà il 20 non vogliamo sbagliare ma 22-24 di luglio quindi sarà l'ultimo lunedì prima della festa del perdono insomma ecco quindi non il penultimo lunedì deve essere e qui vedete proprio la grande partecipazione di atleti provenienti da diverse parti dal senese, dal fiorentino ovviamente dall'aretino altra prova importante del circuito del Grand Prix insomma che ha veramente spaziato in lungo e largo nei vari settori della provincia di Rezzo e non soltanto che vediamo Graziano Emanuele che si era messo insieme a Midar e Daishun poi Tartaglini e Nucera quindi questi erano i 5 atleti poi nel finale ovviamente c'è stato un Midar che ha fatto un allungo perentorio cioè anche questo c'è da dire è un circuito mi sembra tre volte impegnativo molto impegnativo a metà percorso c'è una salita che la deve fare tre volte e qui siamo passati invece a dovrebbe essere i letti no questo qui siamo al santuario delle vertighe ecco questa qui è un'altra delle gare che oramai si è radicata si è radicata e qui vediamo tutti i veloci qui si vedono questo rettilineo che anche questo deve essere fatto tre volte addirittura con questa scalinata che per alcuni versi qualcuno imprecano perché poi c'è il santuario vicino quindi sono costretti diciamo a limitare lo fanno però ecco effettivamente è molto impegnativa perché poi spezzano le gambe non c'è un attimo di pianura anche qui a salita e discesa benché sia una gara molto molto breve proviene nel periodo questo è serragosto quindi chiaramente però tanta gente tanti partecipanti anche perché poi dopo c'è un dopo gara particolarmente impegnativo a mangiare comunque sia è una gara che è molto premiata anche questa quindi gli amici delle vertighe sono la Proloco insomma tutto il gruppo che organizza insieme a Minchetti e Sandarelli si sono andati a fare perché raggiungano un altro risultato di un problema vediamo a Bignardi che ancora resiste insieme a Blasi e a Gbine in questa gara ah sì c'è da dire che Blasi al momento è fermo e ha dei problemi ai piedi quindi questa classe ultra settantenni comincia a avere qualche piccolo problemino ecco vediamo la Jenny Genziana che quest'anno ha fatto un'annata direi importante ha fatto diverse gare spettacolari che però alcune l'ha perso proprio nel finale l'ha perso proprio per non lo so per una leggerezza non abbiamo capito cosa sembrava acquisito certe posizioni poi dopo crollare nella parte conclusiva ecco vediamo Prozza Antonio che già quest'anno abbiamo visto ha fatto due gare e qui vediamo Graziani Emanuele che va a vincere con una tenacia questa competizione ricordiamo che poi Graziani è andato anche ai campionati italiani insieme a Cardelli e a El Calille giù in quelle di Bari e qui intanto vediamo Nucera poi vediamo Vannuccini Francesco che ancora qui era leader del circuito del Grand Prix poi Guidelli e quest'anno ha fatto un'annata direi importante anche per Fabio ha trovato lo spazio e ha trovato lo spazio giusto e questo gli ha permesso di affrontare anche la prima maratona ha provato a Firenze e si è ritirato poi è andata a Reggio Emilia quindi l'ha finita insomma e poi Scaglia che invece ha dominato quando c'era dominava invece Cucchiarini che ha vinto proprio il circuito del Grand Prix e qui l'arrivo di Graziani qui siamo passati invece all'Erchi un'altra gara nel Perugino che questa qui è subito dopo il Ferragosto quindi anche qui per smaltire alcune tossine fanno questa gara di 6 km quasi tutta pianeggiante velocissima questa è molto veloce partecipata con un po' di confusione nella zona del traguardo per fortuna le scippe permettono di avere un pochino più di controllo ma comunque sia è una gara che poi visti anche i ritmi che vengono inseriti ci sono diversi diversi atleti doppiati quindi chiaramente bisogna stare sempre molto allertati però è una gara veloce basata sul ritmo una gara 18 minuti 19 eh sì e che vediamo ecco al primo passaggio gli atleti che stanno transitando vedete che il primo passaggio 6 minuti 7 minuti 7 minuti primi erano già passati 3% quindi sui 20 minuti scarsi che giungono alla conclusione c'è a dire che poi il primo giro è più lungo perché si parte da un fondo a un rettilineo quindi e qui è una lunga fila quindi non si fa intanto abbiamo visto anche l'azzerini di massimiliano che quest'anno veramente ha fatto un'annata direi più che positiva poi ha fondato la società ha fatto una società nuova che poi hanno organizzato la corsa per una corsa di natale quindi vedremo insomma ecco quindi sono all'inizio anche loro e quindi gli atleti ecco vediamo l'isiton maso che anche lui è la prima esperienza nella maratona a Firenze con scendendo sotto le tre ore quindi beh tutto sommato buoni risultati sono venuti un po' da molti atleti diciamo anche della provincia d'Arezzo in generale e quindi ecco Di Micheli che invece era una delle penultime delle ultime gare che gareggiava poi si è trasferito in Sicilia però lo salutiamo ovviamente ancora con affetto perché è stato un grande personaggio del podismo anche lui molto eclettico molto eh sicuramente gareggiava in Sicilia sì sì vediamo un po' ecco qui invece siamo a a Castelfranco di Sofra Castelfranco di Sofra a Zolfina una gara che era stata un pochino sottotono diciamo pubblicizzata quest'anno sappiamo che vogliono fare le cose in grande quindi sarà il 24 di agosto quindi una gara che vedremo quello che riusciranno a fare la nostra il nostro suggerimento era quella di fare una gara in circuito qui che ci sono tutte le possibilità ci sono opportunità di fare veramente una gara di spettacolo vedremo un po' quello che decideranno poi la Proloco di Castelfranco di Sofra che saranno loro un po' a decidere le sorti di questa di questa gara e qui abbiamo visto la Nicoletta Sanarelli che va a vincere questa competizione vissando il successo dell'anno precedente addirittura quindi veramente una grande gara qui siamo passati invece a Montevarchi un'altra delle gare diciamo un pochino storiche della provincia di Arezzo il Trofeo Sironoferi anche qui tanti partecipanti nonostante le concomitanze che ci sono a settembre specialmente diventa abbastanza impegnativa diventa come organizzare i calendari sono talmente fitti talmente diciamo compressati meno male che qualche persona più che corre altrimenti sarebbe un grande problema sarebbe sì sì è quello ovviamente tutti vogliono organizzare beh benvengano anche queste cose l'importante è che ci guadagni anche lo spettacolo ci guadagni l'organizzazione qui intanto vediamo ecco Alessandro Tartaglini e Alessandro Annetti che hanno fatto una gara direi stupenda in questa circostanza qui li stiamo riprendendo negli ultimi chilometri prima di raggiungere diciamo il traguardo e qui siamo passati invece a Montagnano ecco qui vediamo la Montagnanata che quest'anno non sarà più nel circuito del Grand Prix quindi sarà eliminata in notturna forse in quella da lì ci sarà la corsa record Pietro Mennea quindi vedremo un po' quello che accadrà anche questa è una gara in circuito che abbiamo cercato di ricreare dopo alcune diciamo anni di interruzione poi dopo riproposta prima con atleti anche più forti poi mantenendo un po' in una certa linea perché ovviamente le diciamo gli investimenti sulla competizione sono stati un pochino più contenuti è una gara anche questa qui direi abbastanza impegnativa con salita e discesa percorso un bel percorso facendo la notturna quindi c'è anche un diverso pubblico almeno negli ultimi 100-200 metri appena passato il traguardo insomma essendoci la festa la sagra poi inizia inizia proprio con questa cosa inizia sempre con la sagra ecco qui vediamo ancora atleti che stanno transitando nella zona diciamo delle subito dopo il traguardo vediamo mattoni che stanno fatto un po' alti e bassi da un punto di vista proprio anche del risultato forse un pochino più sottotono rispetto a qualche a qualche anno fa si sta preparando per sposarsi anche lui si sta perché sa che non è più giovanissimo anche lui si sposa ora non si sposa mai più ecco qui siamo passati invece alla corsa del lago di Chiusi quindi una competizione anche questa che è molto impegnativa molto dura molto lunga più che mai comunque oltre che lunga ci sono diverse salite e poi ecco quest'anno era molto molto caldo quindi facevi in quelle salite senza ombra proprio non trovavi mai niente che ti potesse riparare dal sole ecco questa che è impegnativa impegnativa molto impegnativa e questa è una gara che a settembre è un po' presto fare una gara a questo volerebbe essere fatta in inverno quasi autunno però probabilmente c'è meno c'è meno problematica anche del tempo cattivo anche se poi il tempo cattivo non lo può valutare si è visto anche in qualche manifestazione quell'acqua era piena di gente quindi non è molte volte il tempo si corri meglio corri peggio organizzi meglio organizzi peggio però la gente anche questa poi è impegnativa c'è da un punto di vista anche organizzativo è dispersivo perché è 18 chilometri 19 quasi quindi tutto percorso unico quindi e qui c'è stato Emanuele Graziani che ha fatto un'altra delle sue prestazioni negli ultimi negli ultimi mesi dell'anno nelle gare diciamo dove non erano presenti atleti di livello internazionale lui dove ha gareggiato dove ha fatto ha fatto anche il vuoto molto speso anche troppo forse si generava e qui siamo ecco la sera stessa addirittura c'è stato la Arezzo Abiglia quindi i concorrenti dalla mattina si sono trasferiti dal Lago di Chiusi al Parco Pertini di Arezzo molti tutti no ecco ho fatto quasi 19 la mattina poi la sera era un pochino più si si era fatta più forte che doveva essere più veloce la gara perché è una gara veloce però questa fra l'altro è bello ovviamente anche qui lo scenario quindi probabilmente l'anno prossimo avrà una so collocazione più definita probabilmente quindi non sarà in concomitanza con o sarà in concomitanza però non sarà in cerita nel circuito del Grand Prix la corsa del lago quindi Arezzo Abiglia avrà un suo spazio ancora maggiormente diciamo più ampio e qui vediamo proprio nella corsa nell'ambito del Parco Pertini che veramente direi è un altro è un altro dei parchi quando corri nei parchi dove c'è il verde dove c'è la cosa è molto bello correre poi le immagini rendono di più molto di più e niente c'è da dire che anche questa è una gara era abbastanza corta esatto quindi ecco qui stiamo vedendo un pochino l'arrivo e passaggi che poi erano tre giri di questo percorso quindi tutto è molto circoscritto il percorso quindi però era bene e qui siamo alla fine alla fine di settembre siamo quindi ecco ecco vediamo proprio le caratteristiche di Tavanti che era a scalzo quindi ha fatto vedere le sue caratteristiche poi qui ecco qui siamo passati invece alla corsa del perdono il 21-22 di settembre prima edizione di sabato mattina sabato mattina che quando ce lo proposero non pensavamo potesse avere questo successo direi quindi un grande risultato e una grande organizzazione da parte della corsa del perdono ma soprattutto degli amici di Terra Nuova con la Proloco anche in questo caso che hanno fatto sì che in questa competizione di sabato mattina avessero atleti anche dal punto di vista tecnico validi e poi anche da fuori c'è molto fiorentino e poi calcolando che avevano fatto due percorsi forse hanno indotto anche questo a dare spazio un pochino a tutti insomma non so se nel 2019 verrà fatto un unico percorso oppure due però ecco anche questo che è privo di traffico quindi erano insieme a pista ciclabile anche questa pista ciclabile poi percorso in alcuni tratti anche abbastanza impegnativo però è stato bello insomma abbiamo visto molta partecipazione anche qui una gara premiata molto bene quindi è chiaro che quando ci sono queste combinazioni riesce riesce meglio tutto il premio la gente si sposta anche più facilmente quelli che vengono da vicino va bene uguale e qui vediamo anche sempre Emanuele Graziani che anche in questa occasione domina la gara di 18 mentre c'è poi diciamo la deviazione del decimo chilometro che viene proprio fatta in questi ecco in questo tratto qui e vediamo che Vannuccini e Annetti girano mentre gli altri vanno avanti Tartaglini e Taras ed ecco qui siamo passati invece alla corsa della copp quindi la copp la corsa la competizione diciamo del trofeo copp fi che è una manifestazione che anche quest'anno ha visto beh direi diversi partecipanti un percorso leggermente modificato allo scorso anno però sempre molto spettacolare è piaciuto perché poi anche qui abbiamo tagliato la città in lungo e largo che sono quindi dalla diciamo dal centro commerciale copp siamo andati verso il pronta poi dopo siamo andati giù zona pescaiola al contrario addirittura siamo andati al centro affari e poi girando quindi abbiamo fatto un giro abbastanza lungo ma tutto fuori dal traffico anche questo che è molto partecipato e anche questa è un'altra gara sempre molto premiata quindi una gara che è piaciuta e sicuramente già il 29 di settembre del 2019 sarà la terza di quest'anno perché siamo già nel 2019 edizione e qui vediamo l'arrivo di Alessandra Netti che in questa circostanza ha dominato la sua la sua gara eccolo qua poi Vannuccini quindi chi lotta serrata fra i due leader del circuito del Grand Prix poi Fatichenti che quest'anno è stato costretto a fare alternanza un po' con le gare per infortuni poi Guidelli che sta crescendo sistematicamente poi Malvin Metis e poi qui la volata di Mori con Manelli quindi il giovane Lorenzo Mori che ancora una volta fa sapere chi è e poi Ciambriello la novità forse la sorpresa del Grand Prix quindi terzo posto finale che è stato veramente un grande successo ecco la settimana prossima faremo vedere anche la scena faremo vedere anche la scena quindi di questo Grand Prix mentre adesso qui siamo passati alla malattina alla marina che dopo alcuni anni di interruzione è rientrata nel circuito del Grand Prix e sicuramente anche quest'anno sarà presente nel circuito del Grand Prix nella prima domenica di ottobre grandi partecipazioni direi che anche qui qualità e quantità esatto qui c'è la qualità diciamo degli atleti di un certo di un certo livello sia maschile che femminile e direi anche la presenza degli atleti aretini si sono ben hanno ben figurato insomma anche in quella circostanza addirittura che vediamo ecco alcuni di questi atleti age e poi vediamo lì nello scorcio abbiamo visto anche Yasin e il Khalil che ovviamente non demorde è un battagliere vuole stare sempre con gli atleti di testa la vediamo qui ecco in questo momento e qui era in una fase crescente di quello era al massimo una forma che ci sarà dopo 15-20 giorni della forma che è esatto quindi ecco direi che ha fatto un'annata particolarmente brillante mentre qui ovviamente gli atleti del Kenya e del diciamo del Marocco stanno inseguendo diciamo la vittoria di questa gara qui vediamo la Tamburi che ha dominato in campo femminile per quanto riguarda la sua gara poi qui ecco no non ha dominato scusate è arrivata seconda o terza mi ricordo esattamente qui invece le facciane una delle ah ecco c'è il Mokandanga che va a vincere invece in maniera molto facile questa questa competizione però c'è una bella falcata ancora è bene sì neanche una bella ragazza vedendola quando è rilassata è una bella ragazza anche adesso sorride vedi c'è problemi sì 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 non la porta e poi ecco siamo passati dalla Marocco alla Marina alla passeggiata alla fiera quindi una delle ultime gare del Grand Prix 2018 anche qui sempre molto partecipate gli amici di Sinalunga che ripeteranno come al solito la seconda domenica di ottobre questa massa di gente per fortuna anche per loro che tutti gli anni hanno trovato sempre una bellissima stagione diciamo che è una bellissima giornata ci auguriamo che ovviamente tutti soprattutto per quelli che organizzano è importante avere tempo tempo buono basta che non piova insomma ecco e qui tanti partecipanti c'è stata veramente una battaglia anche nella testa della corsa fra Cannucci e Attiglioniola che si sono dati battaglia fin dalle prime battute mentre lì c'era Graziani ma si era proiettato invece a Pisa per cercare di ottenere un risultato importante nella mezza maratona Tartaglini 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 mi sembra che è arrivato sesto settimo quindi ha fatto una buona mentre Graziani si è dovuto ritirare ecco qui vediamo intanto nella salita che va verso Sinalunga anche questa è una gara particolarmente impegnativa impegnativa sì perché anche qui costante ritmo costante solo nell'ultima parte lo fai dopo altrimenti fai salite discese salite discese però sicuramente molto più spettacolare la presenza diciamo della città in questo caso che aiuta molto anche a avere maggiore visibilità il percorso scorre bene perché è faticoso però è bellissimo e qui siamo nelle fasi finali in cui Niola e Pocannucci vanno a a farsi a dare battaglia mentre qui la Barneschi Francesca proprio nel finale ha fatto un recupero prodigioso va a recuperare addirittura sulla Cenni che era in quel momento lì davanti eccetera e poi qui siamo passati invece alla Maratona Città di Arezzo che stanno come vedete qui il tempo purtroppo non ha dato ci ha aiutato non ci ha dato una mano però la massa di gente era talmente anche qui elevata quindi sicuramente sono mancati alcuni competitivi sicuramente perché la giornata a quel modo chi gli faceva affare di partecipare e però hanno partecipato ma direi un grazie anche alle scuole che hanno voluto essere presenti nell'iniziativa il cuore in corsa quindi sicuramente ha dato e poi ovviamente qui c'è stato l'aspetto tecnico non indifferente in cui veramente sono andati battaglia agli atleti maggiormente accreditati raggiungendo il secondo risultato di sempre della Maratona Città di Arezzo insomma quindi voglio dire non solo il primo sono stati 5 a 30 e sono scesi sotto l'ora di 0-3 mi sembra e quindi rappresenta diciamo una delle mezze maratone più veloci d'Italia insomma voglio dire quindi anche questo la dice lunga sulle caratteristiche di questa più veloce non dal risultato tecnico migliore in Italia cioè per capire per capire che sono gli atleti forti intanto vediamo Stefano La Rosa che era un pochino indietro con le preparazioni comunque è andato sempre molto forte e quindi l'azzurro come al solito dà sempre stimolo alla competizione vediamo Graziani che è stato secondo dei vigili mentre la lotta forse più in certe è stata fra le donne anche io amico spettacolo sì sì anche lì fino alla fine ecco si sono si sono giocati c'è stata l'alternanza dal comando e solo negli ultimi 5-7 metri si è risolto è stata una cosa fantastica che non pensavamo neanche noi fosse accaduto questo e qui intanto vediamo proprio gli atleti al passaggio del decimo chilometro dell'anzi del nono chilometro e 200 metri che trattano ma vedete addirittura era stato diciamo buttato giù il palco quindi il vento ha creato il problema e guardate laggiù in fondo anche l'arco quindi c'è stato veramente di tutto e di più ha creato grandi difficoltà le condizioni meteo che per fortuna ci ha permesso di realizzare la competizione in molte parti sono stati costretti ad annullare anche le gare quindi noi siamo stati probabilmente fortunati in questo caso e poi qui siamo passati invece alla corsa del maier a san giovanni valdarno quindi vedere gli asini del calile che voleva fare un test veloce su una 10 km è stato veramente ha dominato in lungo e largo ha lasciato la compagnia subito dopo i primi 500 metri poi anche qui grande partecipazione direi a livello quasi del capodanno di corsa insomma voglio dire quindi c'è una competizione che avevano pubblicizzato bene comunque avevano coinvolto molto anche le scuole le persone erano scopo benefico anche qui due anni si presta ma è abbastanza un paese di campagna nel senso che si conoscono in molti ed è facile fare non competitivi e poi arriviamo alle penultime gare qui siamo alla Corripuglia che era il 4 novembre probabilmente l'anno prossimo sarebbe il 3 novembre quindi vedremo un po' ci sono un po' di problematiche per quanto riguarda diciamo la possibilità di poter confermare il periodo di questa Corripuglia che però è sempre molto affascinante è una gara sempre molto spettacolare la presenza degli atleti maggiormente accreditati quindi sicuramente una delle gare che negli ultimi anni ha preso credito insomma sì ovviamente c'è stato hanno partecipato anche atleti di spicco internazionale dopo è cambiato un pochino il regolamento quindi non hanno potuto partecipare queste persone qui però ecco insomma questa è anche una bella gara questa è bella questa è una gara che piace diciamo partecipare perché il percorso è molto sì sì è vario molto vario quindi c'è abbastanza appetitiva come gara però abbiamo questi scorci di paesaggi di panorama di strada che sono bellissimi duri da correre però sono belli però effettivamente ecco qui vediamo Bettarelli che addirittura questo anno in Oceania in un grande risultato secondo una maratona in viaggio di nozze ha fatto anche una maratona quindi è andato fortissimo complimenti anche a lui ecco vediamo quindi gli atleti che ovviamente si sono un po' maggiormente anche distinti in quest'annata 2018 e come dicevamo la settimana prossima faremo vedere le premiazioni del Grand Prix in occasione della scena finale che ormai è consenuto ogni anno a metà dicembre facciamo con tutti coloro che hanno partecipato a questo circuito ecco sarà l'occasione anche per presentare un po' a Grandinine tutto il diciamo le date del 2019 che già a Grandinine ve l'abbiamo un pochino accennato questa era la penultima gara quindi era determinante perché poi c'era un punteggio particolare un punteggio doppio no questo no si è un punteggio doppio e poi c'era il discorso anche delle 5 gare finale che permetteva di avere un bonus in più quindi insomma è tutto un sistema diciamo organizzativo che sicuramente ha fatto sì che questo Grand Prix giunto alla 27esima edizione si completasse in maniera positiva ecco qui vediamo proprio sempre a Puglia il recupero che vediamo Tartaglini abbiamo visto prima Alessandro Annetti e poi avanti probabilmente abbiamo la presenza di Graziani che è stato un po' anche lui il mattatore dell'ultimo in momenti che stava bene ecco ha dominato sì a volte ecco poteva anche risparmiarsi qualche diciamo la possibilità di avere distacchi poteva stare un pochino più insieme agli altri ma quando uno sta bene sicuramente lo dura fatica viene voglia di spingere quindi di non rischiare più di tanto ecco andiamo intanto Cibina Milcare 80enne 81enne quest'anno quindi vedremo un po' e qui siamo passati come al solito sempre sotto la nebbia nella Befana del trail di Lignano Memo del Caprile è questo trail che ormai non ci permette di poterlo vedere con il sole non siamo riusciti negli anni a vedere un trail ma è di novembre quindi novembre è facile se sia la nebbia e meno male la nebbia non ha piovuto esatto anche quello è stato importante che poi per fortuna si è risolto nel pomeriggio quando c'erano le gare del settore giovanile anche su in alto non c'era tutto fino a Calignano 800 metri non c'era e qui vediamo alcuni passaggi alcuni scorci di questo percorso che direi in alcuni tratti è anche spettacolare quindi quest'anno abbiamo induciato anche su alcuni tratti dentro il bosco quindi è molto c'era come ho detto solo che ci vorrebbero dieci telecamere quindi diventano di posti dove non siamo mai andati a farvi vedere anche per esempio la Santa Maria là è bello il posto e l'anno prossimo cercheremo di organizzarci in modo tale da poter posizionare almeno due o tre telecamere nei punti salienti ecco qui vediamo un altro reparto addirittura sulla casina tutta il legno realizzata quasi tipo una baita così a livello locale c'è una urlotte ricoperta da questi troppi da queste cose che Vittorio Autenti ha fatto e qui intanto andiamo proprio dentro diciamo questo piccolo tratto di bosco che sicuramente è molto spettacolare insomma una giornata di sole sarebbe stata ancora fantastico comunque sicuramente apprezzato anche questa anche questa è un'altra gara che viene sempre dopo l'incertezza di tre anni fa quando ci boicottarono il percorso adesso è segnatissimo quindi è impossibile abbiamo sentito il giudizio da parte di tutti i concorrenti dice è impossibile sbagliare quindi meno male perché purtroppo è sempre questo diciamo il punto di domanda che ci facciamo poi quando partiamo perché quando fanno le gare così di trailer molto spesso parecchi sbagliano i percorsi cioè perché per non farli sbagliare bisogna bisogna perderci tempo tempo tanto tempo ore e ore di lavoro qui abbiamo visto proprio Banelli che è stato un po' il protagonista indiscusso di questa gara della 19 km insieme a Refri e Burzicchi che qui vediamo proprio la cima di Lignano vedete c'era quella nebbia sotto ma sopra era anche nuvoloso quindi non c'era un piccolo chiamito ecco qui lo vediamo quando passa la Sassi e poi invece pomeriggio vedete qui ecco qui si va a completare un po' un anno di corsa con questa corsa dei giovani memoria Gabriele Annetti che ha visto ma oltre 120 atleti provenienti da tutte le parti ovviamente c'è da dire che sulle categorie i più grandi c'era più gente rispetto a quelli più piccoli che di solito è il contrario sicuramente questa qui è stata una gara che ha attratto molte persone anche perché anche qui abbiamo dato veramente anche un tipo di prevenzione a tutti anche questo c'è da dire quindi lo spirito è quello proprio di avere partecipazione ma anche perché volevamo ricordare Gabriele Annetti un nostro atleta scomparso diciamo giovanissimo anche per rispetto dei genitori e questa è stata veramente la concretezza di un anno anche di iniziative che la Polisportiva Polisciano insieme ai suoi collaboratori all'istituzione è riuscita a realizzare quindi sicuramente un anno importante del 2018 per questo Grand Prix che lo vede sempre il leader per quanto concerne un po' a nascere 27 anni fa quest'anno sarà la 28esima edizione ci auguriamo che possa essere sempre un altro spettacolare Grand Prix ovviamente l'appuntamento a tutti gli appassionati è di parteciparvi e di poter ovviamente ottenere il risultato più importante quello di completare le gare poi dopo ovviamente c'è da dire che dopo la Befana Campestre ci sarà il 13 a Grassina e poi il 20 a a Monterigione quindi saranno 4 gare già subito 5 gare diciamo del Grand Prix alla fine di gennaio quindi veramente dopo ci sarà un break con i campestri poi riprenderemo verso la fine di aprile 24 con no a marzo scusate con la corsa della Val di Chiana e poi dopo Vivi Città e poi tutto aprile abbastanza intenso con la corsa anche di Thomas il 7 di aprile insomma quindi veramente ce ne saranno tante e poi ovviamente per vederle potete andare sul nostro sito www.podismo.tv dove potete vedere queste immagini ovviamente verranno riproposte poi anche su Youtube e quindi le potrete vedere costantemente ogni volta che vorrete ecco questa è ancora un'altra carrellata un'altra passeggiata dei giovani che hanno preso parte a questo circuito del Grand Prix anche per loro vale più o meno la stessa cosa fatta con gli adulti vedete comunque questo è l'ambiente dove verrà realizzato anche la Campestre di domenica 6 gennaio la Befana Campestre quindi sarà sempre lo stesso palcoscenico non ci sarà modificato non ci saranno queste macchine nel mezzo c'è da dire che le macchine sarà proprio un cross completo dovrete lasciarle nel paese senza apri sportiano ci sarà posto per le macchine e poi ovviamente se qualcuno vorrà fare ci sarà la saluità salcicciata c'è anche la Befana c'è c'è anche la Befana e quindi vedremo un po' sarà veramente una giornata di divertimento con questo ovviamente ringraziamo tutti i partecipanti al Grand Prix 2018 e l'appuntamento è per il Grand Prix 2019 che come dicevamo è già iniziato è già iniziato a metà dicembre no a fine dicembre 26 dicembre dopo Natale e andremo avanti fino al a metà novembre a metà novembre poi ovviamente nell'arco dell'anno ci potrebbero essere anche delle novità quindi vedremo un po' quello che accadrà se sarà così oppure se ci saranno altre altre cose